Successi come Bad de Lontano o con Mocheria li hanno resi protagonisti del panorama musicale isolano e non solo. I Bertas, storico gruppo sassarese con 53 anni di carriera alle spalle, sono stati insigniti di un prestigioso riconoscimento, il pletro d'autori per i loro meriti artistici e la loro longevità. La cerimonia si svolta a Palazzo Boila Milis, il premio è stato realizzato in argento dall'ora Fonanni Rocca.